Lorenzo Riccardi e Claudia Dionigi si sposano e lo comunicano con un video divertente. E adesso veniamo a parlarvi di Uomini e Donne con una coppia del passato che fa ancora tanto emozionare i fans di Uomini e Donne. Loro sono Lorenzo Riccardi, soprannominato il cobra e lei la sua cobrina ossia Claudia Dionigi. I due si sono scelti appunto nel programma di Maria De Filippi nove anni fa e dal loro amore è nata una figlia. Praticamente da quando si sono messi insieme a Uomini e Donne non si sono mai separati, prima hanno abitato in provincia di Roma, successivamente a Milano e adesso ancora più o nel centro in una nuova casa sempre a Milano. Sinceramente pensavamo a questo punto che dopo nove anni e una figlia avessero deciso di convivere. Insomma niente matrimonio, e invece proprio ieri quando probabilmente nemmeno i loro fans ci credevano più è arrivata la bellissima notizia che si sposano e lo hanno fatto con questo bellissimo video. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.